Allora oggi facciamo questo incontro e abbiamo chiamato a riprenderci il Comune a partire dalla sanità e anche qui faremo una parte diciamo più generale. Abbiamo chiesto a Edoardo Turi di Medicina Democratica del Forum Difesa della Salute di farci un breve resoconto diciamo sullo stato del Servizio Sanitario Nazionale per poi passare alla seconda parte in cui parleremo dell'esperienza degli sportelli popolari nati contro le liste di attesa in particolare diciamo parlerà Roberto Guaglianone dell'esperienza dello sportello di Saronno in provincia di Varese ma diciamo in generale anche degli sportelli che si stanno che si sono aperti in tutta la Lombardia un'esperienza ovviamente replicabile quindi uno degli obiettivi di questa di questo incontro è quello di far conoscere anche il come si fa. Io non aggiungerei altro quindi darei immediatamente la parola a Edoardo Turi ripeto di Medicina Democratica del Forum Difesa della Salute che ci racconta un po' lo stato anticipo drammatico diciamo del Servizio Sanitario Nazionale ma che ci aiuta a inquadrare anche poi le esperienze concrete come quelle dei sportelli popolari in che contesto vanno a collocarsi. Grazie quindi Edoardo a te la parola diciamo 20 minuti vedi tu insomma e poi passiamo alla seconda parte. Grazie. Grazie Marco buonasera a tutti e a tutti allora oltre a essere un attivista di Medicina Democratica del Forum Pereditore della Salute sono anche un medico specialista in igiene e medicina preventiva e dirigo da da molti anni un distretto di un'asla romana di enormi dimensioni nella periferia di Roma più di 200 mila abitanti senza ospedale. Vengo storicamente da per chi è più insomma più o meno coetaneo da quell'esperienza importante che è stata l'esperienza del collettivo di medicina della statale di Roma della Sapienza. Allora iniziamo a dire questo la sanità è un argomento complicato non meno che ne so del nucleare o dell'energia e che diciamo così è difficile affrontare soprattutto in una situazione di analfabetismo di ritorno dei più anziani attivisti o operatori sanitari quel che siano che hanno smesso di approfondire studiare e così via o dei giovani che pur venendo da esperienze formative universitarie sono un po' al digiuno di tutto. Allora questo perché in realtà non perché l'università abbia mai parlato di alcuni argomenti ma perché le sedi di formazione delle persone, i cittadini, degli attivisti erano i movimenti partiti e i sindacati. Quando sono venuti a mancare queste sedi ovviamente è mancato la trasmissione anche voglio dire da generazione a generazione del sapere e delle conoscenze e questo è uno dei problemi più grandi che abbiamo. Almeno io andando un po' in giro ogni tanto a fare riunioni o comunque partecipando ai riunioni mi sono reso conto che c'è questo problema. Allora l'altra questione che bisogna mettere a fuoco è che la salute è diversa dalla sanità, la sanità è l'insieme dei servizi. La salute è la situazione collettiva o individuale in cui una persona si trova, dal di là della definizione che dà l'organizzazione mondiale alla sanità, la salute non dipende soltanto dai servizi sanitari. Ci sono appunto determinanti salute biologici, diciamo così, l'età non dipende dalla società, il genere, diciamo meglio il genere a punto di vista biologico è immutabile e le malattie genetiche o ereditarie o la predisposizione a esse anche è una cosa immutabile. Invece i determinanti sociali della salute sono determinati degli esseri umani e dipendono da dove uno nasce, l'ambiente naturale, l'inquinamento delle acque, l'inquinamento dell'aria, l'inquinamento del suono, il reddito che è indipendente anche dal lavoro, il lavoro inteso come occupazione può essere un buon lavoro, un cattivo lavoro da tutti i punti di vista, l'abitazione che è la voce che incide di più sul reddito, soprattutto per chi non ce l'ha, non l'ha ereditata, non ce l'ha di proprietà, il livello di istruzione che determina a sua volta la qualità del lavoro e quindi il reddito e infine i servizi sociali, sanitari o di altra natura. Quindi il problema della sanità è che quando la società non cura, non si cura dei determinanti sociali della salute, tutto si scarica sulla sanità. Come? Usando questa motafora, il pronto soccorso. Noi vogliamo tutti che il pronto soccorso esista, siamo contenti, siamo sicuri quando c'è, ma non vogliamo che lavori, vorremmo che i colleghi al pronto soccorso girassero i pollici. Invece il pronto soccorso lo doveva finire. Tutto ciò che la società non vuole, non può o non sa risolvere. Infortuni e omicidi sul lavoro, incidenti stradali, incidenti domestici, violenza di genere, crisi di overdose o di astinenza o alcuni eventi acuti come gli infarti che potrebbero essere evitabili e potrei continuare l'elenco. Allora il problema è che più la società non è in grado di affrontare alcune cose e più la sanità non ce la fa. Allora l'altra questione è che la sanità è una conquista relativamente recente delle nostre società. L'Italia è uno dei pochi paesi che ha un servizio, come parleremo, universale fondato sulla fiscalità generale, ma i paesi che hanno un servizio sanitario pubblico sono pochissimi, sono meno di un terzo dell'umanità in termini di paesi o in termini di abitanti. L'Europa, il Canada, l'Australia, la Nuova Zelanda sono i paesi che hanno un servizio sanitario nazionale minimamente decente, molti altri paesi non ne hanno o hanno delle forme private di assistenza. Allora com'è che noi abbiamo questo sistema? Non c'è nessun merito soggettivo da parte delle generazioni. La mia generazione, quelli un po' più giovani e quelli più anziani di me, non hanno un merito. Hanno solo il merito di essere nati e vissuti in un periodo in cui c'è stata una straordinaria accumulazione capitalistica nel dopoguerra, con il piano Marshall, la ricostruzione, il cosiddetto boom economico, che ha fatto piano piano diminuire le malattie infettive, perché c'era bisogno comunque, avete visto l'epidemia quanto ha impattato pesantemente sull'economia, anche dei singoli cittadini, diciamo così, sulle loro esistenze, e invece sono nate e cresciute a dismisura le malattie cronico-degenerative, le più importanti diabete, malattie cardiovascolari e tumori. Allora le prime ovviamente dovrebbero essere combattute perché impattano negativamente questo sin dall'Ottocento sulla produzione e il consumo. Se c'è un'epidemia in fabbrica o in ufficio stanno tutti quanti a casa e nessuno lavora. E questo è un problema sia per il lavoratore ma ancora di più per il datore di lavoro. Ma ovviamente quando uno non lavora, non produce, non consuma e questo oggi è una grande novità, chi non consuma blocca tutta quanta l'età, il motivo per cui nel caso dell'epidemia da Covid c'è stata una grande mobilitazione e l'economia si è fermata. Le malattie cardiovascolari, diabete, tumori e altre malattie croniche invece si manifestano in tarda età, uno ci può convivere tranquillamente con i farmaci e in più sono un grande settore di investimento da un punto di vista economico per l'industria, l'industria farmaceutica, quelli elettromedicali. E quindi è uno dei motivi per cui le malattie effettive vengono combattute, più o meno bene ovviamente, sempre parliamo dei paesi industrializzati di cultura occidentale, mentre le malattie croniche generative sono meno combattute, anzi addirittura sono quasi un interesse che vi siano per le ragioni che ho detto prima. Appunto la mia generazione, quella subito dopo e quella subito prima, non hanno mai stato un periodo straordinario, il grande ciclo di rotte negli anni 60 e 70 che ha ottenuto che cosa? La legge di riforma sanitaria del 1978, è stata largamente modificata, poi vedremo come e perché, però è stata una grande conquista. Noi prima avevamo soltanto le mutue che coprivano soltanto alcuni cittadini, alcuni lavoratori fondamentalmente, le loro famiglie, se uno non aveva o perdeva il lavoro perdeva l'assistenza, il modello cosiddetto Bismarck, dal nome del cancelliere prussiano della Prussia Guglielmina della seconda metà dell'Ottocento, che si è inventato nei fatti il sistema assicurativo per malattie, pensioni, invalidità, infortunio, perché non poteva, ricordatevi che non era un benefattore umanitario, era un junker, un aristocratico prussiano, che però capiva che non poteva affrontare il nascente movimento operario soltanto a fucilate e prigioni, bisognava dare qualcosa e si inventa quindi questo sistema, tra l'altro lui non l'inventa ma lo copia proprio dalla responsabilità di mutua assistenza del movimento operaio sin dai decenni precedenti. Questo sistema ovviamente in Italia è quello che per primo prende piede ed è tra l'altro le mutue vengono unificate dal fascismo nel 1941, non tutte naturalmente, nel dopoguerra ci sono ancora le mutue, ma il modello che c'era in Italia era un modello fortemente centralizzato autoritario, paternalistico, lo stato sabaudo prima, lo stato fascista proprio, che affrontava i temi di salute pubblica con un problema di ordine pubblica. Il Ministero della Sanità per esempio non esisteva, è stato ordinato solo nel 1958 e prima era una direzione generale del Ministero degli Interni, perché per l'Italia di allora e neanche nel dopoguerra il problema della salute pubblica era un tema di ordine pubblico. Ci vorranno due decenni di rotte che iniziano tra l'altro con un grande dibattito sinistra, il Partito Comunista, il Partito Socialista, la CGL, che portano a riforma sanitaria. Ma mentre il National Health Service britannico verrà attuato nel 1946, subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, dal governo laburista Atli, da noi il servizio nazionale è stato fatto nel 1978, 30 anni dopo, proprio quando quel ciclo economico, sociale e di lotte va a concludersi, d'accordo, in maniera più o meno drammatica. Diciamo che l'evento drammatico del 1978 è il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro. E quella legge, insieme alla legge 180 per la scusura dei manicomi e la legge 194 per l'introduzione volontaria di gravidanza alla maternità responsabile, sono altre tre leggi che con il governo di unità nazionale Andreotti e con l'attenzione del Partito Comunista Italiano, che non era, diciamo così, al governo, non aveva ministro, non monocolore, il governo Andreotti, è al tempo stesso una conquista del movimento operaio e al tempo stesso anche un contentino che viene dato alla sinistra in quel particolare contesto. E questo, ovviamente, pur essendo una legge parlamentare che ha avuto un iter abbastanza, diciamo così, discusso e così via, aveva dei nemici questa legge, non soltanto, diciamo, nel movimento, nella democrazia cristiana, per esempio, o nel mondo cattolico, ma aveva dei nemici anche nella sinistra. Sarebbe interessante che oggi qualche storico andasse a scattabellare gli atti delle direzioni dei partiti o dei sindacati dell'epoca o il dibattito parlamentare per vedere esattamente quali fossero le posizioni. Fatto sta che la democrazia cristiana, con la sua straordinaria auspizia, colloca nell'833 del 78 due bombe all'oreggeria. L'articolo 25, tutte cose che ci riguardano anche rispetto al tema liste d'attesa. L'articolo 25 è quello che riguarda i medici di medicina generale, il medico di famiglia. Lo stesso ministro Bevan del governo Atli, che era un sindacalista e minatore britannico, non riesce a portare nel National Service in General Prediction, cioè i medici di famiglia. E naturalmente non c'è neanche la famiglia dell'epoca e quindi esistono due possibilità. Il medico di famiglia dipendente o convenzionato è quello che, come sapete, è il meccanismo fondamentale che i medici di famiglia, pediatri libera scelta e pediatri libera scelta, sono medici convenzionati. Quindi non dipende dal servizio nazionale. Dentro le aziende sanitarie non sanno sotto la voce personale, ma sanno sotto la voce acquisizioni di beni e servizi. Su questo poi torneremo. L'altro articolo, l'articolo 26, che riguarda le convenzioni. L'articolo 26 nasceva originariamente 40 anni fa come l'articolo che riguardava la riapposizione dei disabili. Fondamentalmente, non so, istituti come il Don Gnocchi o il Don Guanella, per dire, a Roma, che si interessa perché i bambini non avevano assistenza, non c'era legge 604. E spesso questo settore è stato di appannaggio del mondo cattolico. Quell'articolo 26 è stato il pertugio in cui poi si sono infilate tutte quante le convenzioni, oggi si chiamano accreditamenti, con il privato. Tuttavia, dopo solo 13 anni, nel 1992, il 1992 quindi finisce, se volete, l'Unione Sovietica che crolla il muro, finito ormai da tempo il ciclo di lotte degli anni 60-80, c'è stata la Thatcher, c'è stato Reagan, e nel 1992, dopo solo 13 anni, un ministro liberale, De Lorenzo, dell'unico partito, badate bene, il partito liberale che aveva votato contro la riforma sanitaria, diventa ministro e dentro quell'ondata neoliberalista, o meglio sarebbe dire neoliberale di quegli anni, che cosa fa? Mette mano alla riforma e fa il decreto legislativo 502 del 1992, che al contrario dell'837-78 non è una legge parlamentare, ma è una legge delega, quindi il governo scrive poi il decreto legislativo in base alla legge che il Parlamento ha votato con alcuni paletti più o meno vassi. De Lorenzo, ricordiamoci il 1992, l'anno di Tangentopoli, De Lorenzo verrà inquisito, arrestato per Tangentopoli e pochi anni fa ha finito di scontare la sua pena. Il partito comunista, le sinistre, la CGL, discutono di questa cosa, non fanno una vera opposizione. Un anno dopo, l'onorevole Caravaglia, oggi nel Partito Democratico, all'epoca una democristiana, fa una mediazione, che è un decreto immediatamente successivo, si chiama il 517-93 e a questo punto la sinistra non fa nessuna opposizione. Ha anche rifondazione comunista, adesso per dire, sì, sicuramente ha fatto proclami, ma poi diciamo che nel momento in cui stava al governo, per esempio nel primo governo Prodi nel 1996, non attua un'azione sufficientemente incisiva. E questa è quella che io chiamo la grande occasione mancata. Il primo governo Prodi che sconfigge Berlusconi nel 1996, dura dal 1996 al 1998, con il ministro Bindi, Bindi, stimatissima persona per carità, nulla da dire su questioni generali, ma sulla sanità ovviamente fa un decreto legislativo, anche lì si fa fare una legge delega con palesti ben precisi, diciamo così, che la aiutano a fare poi il decreto legislativo, con il governo successivo che è il governo D'Alema, dopo il 1998, tra il 1998 e il 1999, e quindi viene fuori il decreto legislativo 229 al 1999 del ministro Bindi. E questo decreto contiene la cosa più pericolosa di tutte. Mentre Berlorenzo ha previsto una competizione tra pubblico e privato, la Bindi invece fa proprio scrivere il decreto legislativo che il privato, il pubblico e il privato, e in particolare il privato sociale, collaborano. E qui nasce questa parola che non è un errore, alcuni è un errore semantico, cioè un errore di parola, di usare la parola sistema posto di parola servizio. In realtà alcuni si sbagliano, giornalisti, militanti, attivisti, cittadini, vabbè, ci sta. Però in realtà questo è stato ormai teorizzato dalle grandi centrali di pensiero su questo tema, che sono fondamentalmente la Cattolica, l'Università Cattolica e la Bocconi, che teorizzano appunto il sistema e alcune fondazioni private, dicono le fondazioni Ambrosetti. E appunto il sistema è la trappola in cui oggi ci siamo cacciati. Del decreto legislativo 299 ci sono a dire altre cose che riguardano l'intramenia, le assicurazioni private di integrative, ma sarebbe un po' lungo, in caso mai ci ritorniamo dopo durante il dibattito. Il decreto legislativo 502 del 92, che cosa prevedeva quello di De Lorenzo? L'aziendalizzazione, quindi un modello di tipo privatistico di gestione della sanità. Il direttore generale, che è un organo monocratico, autoritario, che gestisce la sanità, perché lo fa De Lorenzo? Perché lui vuole smantellare un governo democratico, pur con tante pecche, che aveva l'ottore del 1338, ricordo i dibattiti all'epoca sul comitato di gestione che era l'organismo deciso dai comuni per gestire le unità sanità locali, e lui lo sostituisce con questo direttore generale che oggi ha un potere di vita e di morte dentro le aziende sanitarie. L'altra questione è la regionalizzazione, quindi la regionalizzazione anticipa, se vogliamo, con il 502 si anticipa quello che poi diventerà la riforma del titolo quinto della Costituzione e il regionalismo differenziato, così come il direttore generale anticipa il preside manager della buona scuola, una deriva autoritaria che porta fino al premerato dell'attuale governo Meloni. E l'ultima caratteristica di quella norma è il divieto di indebitamento. Le ASL, le aziende sanitarie, sia locali che ospedalieri, i grandi ospedali sono fuori dalle aziende sanitarie locali, sono organizzate in aziende ospedaliere autonome, non possono indebitarsi e questo non fa altro che anticipare la politica, i dettami di Maastricht, perché noi lo abbiamo in Costituzione. In quegli anni, anche ritornando alla Bindi, quindi al governo D'Alema, si fa la riforma del titolo quinto della Costituzione che regionalizza completamente la sanità, per cui noi oggi abbiamo 21 servizi sanitari regionali, per esempio i ticket possono essere diversi da regione a regione, le tariffe con cui vengono rimunerate alcune prestazioni, sono diverse da regione a regione. Ovviamente i servizi che vengono legati sono diversi da regione a regione, addirittura i calendari vaccinali fino all'ultima normativa della legge cosiddetta Gelli sulle vaccinazioni erano diversi da regione a regione e potremmo continuare l'elenco. Quindi quella della Bindi è un'occasione persa, ma perché è persa? Qui l'accento deve andare sulle cause sociali, perché il privato, cioè la white economy, cioè gli imprenditori, soprattutto nel mondo finanziario e assicurativo, mettono gli occhi sul welfare, quindi non soltanto su tutto il welfare, con una nuova occasione di profitto, cioè venuto a cessare quel compromesso, chiamiamolo così, social-democratico tra capitale e lavoro, dopo la caduta del muro di Berlino e anche un po', diciamoci con franchezza, il fallimento delle società, chiamiamole così post-rivoluzionarie, in Unione sovietica, Cina, Cuba, Vietnam, paesi del terzo mondo dopo il colonialismo, ovviamente diceva bene il welfare lo teniamo, ma ci dobbiamo guadagnare, questa è la nuova enorme partita che ovviamente ormai da tanti anni abbiamo di fronte, questo come avviene? Questo avviene con un meccanismo crudele, nel servizio che è il motivo che ci chiama resiste d'attesa, il servizio nazionale non assume più da tempo, c'è il blocco delle assunzioni che c'è anche in tutto il pubblico impiego, anche nelle regioni, nei comuni, nella scuola, col contagocce, ma nella sanità è particolarmente duro, specialmente nelle regioni in deficit che sono cosiddette in piano di rientro, il ministro Balduzzi, che è un ministro del governo Monti, che era tra l'altro il consigliere giuridico del ministro Bindi, quando diventa ministro mette per le regioni in piano di rientro il turnover, cioè il cambiamento, la sostituzione dei dipendenti del servizio nazionale al 15%, cioè ogni 100 operatori che vanno via ne sostituisco 15, capite che con questa linea di tendenza tra un po' il servizio nazionale sarà completamente vuoto, quindi c'è un tetto alla spesa del personale, ora immaginatevi che le aziende sanitarie e le regioni hanno due capitoli di spesa importanti, che sono il personale e acquisizione dei beni e servizi, se io metto il tetto sul personale e non metto il tetto su acquisizione dei beni e servizi, lì invece va a finire tutto, tutto ciò che non riesco a risolvere, faccio convenzioni, accreditamenti, externalizzazioni, partite IVA, consulenza e così via, per cui oggi su base nazionale noi abbiamo il settore dell'accreditato delle convenzioni, in cui badate bene ci sono anche i medici di famiglia, i pediatri di libera scelta, alcuni specialisti ambulatoriali e per esempio tutte le cosiddette partite IVA largamente usate nel pronto soccorsi e questa spesa è il 50% su base nazionale e nel territorio, la medicina cosiddetta vicina al territorio, riabilitazione, RSA, hospice, lungo degenze, abbiamo punte del 90-95%, allora capite bene a questo punto che il servizio nazionale, come noi lo conosciamo dalla riforma del 78, è diventato un barattolo di Nutella, come fanno i bambini che mangiano all'interno, lasciano Nutella sulle pareti, dicono che i genitori pensano che sia pieno il barattolo, poi lo vanno aprire e dentro non c'è niente, sono soltanto le pareti di vetro del barattolo che sono piene di Nutella, ma dentro è vuoto. Allora questa è la situazione che noi abbiamo, il servizio nazionale oggi è diventato come una grande mutua, cioè siamo tornati all'indietro, l'astuzia, l'abilità, chiamata come mi pare, della politica anche di quel mondo, diciamo così, dai decenni passati, più la spinta della white economy hanno trasformato in questo il servizio nazionale. E naturalmente quando parliamo di vista d'attesa dobbiamo pensare non soltanto alla vita specialistica, ma anche, ne so, all'intervento operatori, da quelli più complicati a quelli più semplici, come so, la cataratta, oppure avere la certificazione per bambini disabili a scuola, per i bisogni educativi speciali, insegnanti di sostegno o EPA o assistente dell'insegnante di sostegno. In più a questo ci sono fatte delle aziende di grandi dimensioni, distretti di grandi dimensioni, rompendo quel principio di prossimità che è alla base della democrazia. Teoricamente i comuni hanno perso ruolo, ma non è che non ne hanno più nessuno. I comuni possono esprimerci, per esempio, sui bilanci delle aziende sanitarie e anche su altre questioni, ma spesso i comuni, che già hanno tanti problemi a capire i loro di bilanci, non hanno voglia di studiarsi e capire bene come funziona la sanità e i bilanci della sanità. Naturalmente questo meccanismo, appunto, che ho descritto, ha portato a una riduzione drammatica dei posti letto e degli operatori dipendenti, mentre si sono spestati sulle convenzioni anche interi reparti, servizi, assistenza domiciliare, completamente affidati al privato, con un conflitto enorme tra operatori, una guerra tra poveri. L'operatore, per esempio, a partita IVA guadagna più di un dipendente. Quello che sta nella sanità ha dei vincoli tremendi dal punto di vista, per esempio, della sua partecipazione democratica. E questo porta anche a un impoverimento. Il servizio nazionale, lo dico con franchezza, deve essere difeso, ma non può più essere difeso così com'è. Dobbiamo iniziare a rilanciare un dibattito su come dovrebbe essere il servizio nazionale attraverso una riforma dello stesso, di cui però non vedo in questo momento oggettive possibilità. Serve che il movimento operaio e democratico, i movimenti, iniziano anche una nuova elaborazione sulla sanità, a partire, nel mio caso poi con questo finisco, dal territorio. Per capire la situazione del territorio bisogna pensare che l'ospedale è una cosa di antiche tradizioni, potente e ricchissima. La quantità di risorse che ci sono negli ospedali, anche il più piccolo, sono ingenti rispetto alla sanità cosiddetta territoriale. Mentre l'ospedale è una cosa ben definita, con origine storiche appunto dal medioevo, anche prima e così via, la sanità territoriale è una cosa recentissima. Possiamo dire che il medico condotto è l'ostetica condotta dopo l'unità d'Italia. Il medico di famiglia di cui ho già parlato, sia nelle elezioni migliori che in quelle peggiori, il famoso film di Alberto Sordi del professor Terzilli, ma in realtà il tema è strutturale. Oggi un medico di medicina generale che per guadagnare bene deve avere 1.500 assistiti. Di questi 1.500 assistiti, ci dicono i modelli epidemiologico statistici, su cui lui guadagna su ogni assistito. Un medico di medicina generale guadagna più di 6.000 euro al mese, che sono pochi se uno abita a Venezia o a Firenze, ma se abita in molti dei piccoli comuni italiani, è una cifra piuttosto interessante ed è comunque più del doppio di un medico dipendente. Questo crea già enormi problemi sociali tra queste figure di operatori. Ma in realtà di questi 1.500 assistiti, 1.000 stanno bene. Sono persone che non hanno ancora malattie, qualcuno può averne, è più giovane, ma il grosso non ha nulla. Ma in realtà i restanti 500 hanno almeno una malattia cronica e 100 di quei restanti 500 hanno più di una malattia cronica, 2, e alcuni sono non autosufficienti in situazioni più gravi. Allora il medico medicina generale, di cui abbiamo detto prima, ha come obbligo con 1.500 assistiti 25 ore di studio. Allora voi pensate che io ho 38 ore settimanali da contratto e a volte non mi bastano per fare tutto quello che devo fare. Allora capite bene che al di là del singolo valore, capacità professionale, qui non stiamo parlando del caso singolo del singolo medico che si fa un mazzo così, diciamo che purtroppo la categoria difende questo modello per le ovvie ragioni anche economiche, nonché di prestigio sociale e anche di residuo di quella libera professione ottocentesca da cui il medico proviene. Però è ovvio che è un momello che non può tenere perché più aumenta la speranza di vita e noi siamo contenti che le persone vivono di più, è anche vero che le persone si ammalano di più quando sono più anziane e hanno più bisogno di ricoveri, diagnostica e farmaceutica. Questo determina ulteriormente un aumento della spesa e anche quasi l'impossibilità della sanità territoriale di far fronte, per cui tutto poi si scarica sull'ospedale con un circolo vizioso che è alla base della crisi del servizio sanitario nazionale. Senza di aver detto tutto, scusatemi se è stato più lungo forse del previsto, però poi mi fate le domande e le osservazioni che ritenete opportuni. Grazie. Grazie Edoardo per questa panoramica sia storica sia attuale, anche per essere entrato nelle contraddizioni vere, perché spesso si dice semplicemente che il servizio sanitario ha bisogno di più soldi e tu ci hai fatto capire che non è solo una questione di più soldi che ovviamente ci vogliono, ma per esempio che ha bisogno di più assunzioni, perché se poi quei soldi vanno tutti all'acquisto di beni e servizi esterni, quindi all'eternalizzazione e le privatizzazioni, il gatto si morde la coda. Grazie per questa panoramica. Io adesso darei la parola a Roberto Guaglianone per raccontare l'esperienza pratica degli sportelli popolari contro le liste di attesa, che si sta diffondendo in particolare in Lombardia, ma non solo, e poi daremo invece spazio alle domande, agli interventi che possano riguardare sia l'intervento di Edoardo, che immagino abbia suscitato diverse suggestioni, sia quello che ci racconterà Roberto rispetto all'esperienza concreta. Quindi darei la parola a Roberto Guaglianone. Sì, grazie. Buonasera a tutte e tutti. Vi faccio innanzitutto un paio di premesse. La prima riguarda il fatto che citerò del materiale rispetto al quale poi abbiamo disponibilità a farvi pervenire ovviamente copie informaticamente parlando. La seconda premessa è che abbiamo deciso nell'ultima riunione dell'equip dello sportello SOS di Saronno di spacchettare in tre questo intervento, da dove io che inizio farò sostanzialmente una storia del come siamo arrivati e, diciamo così, una contestualizzazione territoriale dell'attività dello sportello. Darò poi la parola a Giuliana Carugati, valente, volontaria, del nostro sportello saronnese, la quale ci intratterrà proprio sulle modalità di funzionamento e sulla quotidianità del lavoro dello sportello stesso e concluderò lasciando la parola a Filippo Bianchetti che rappresenta per noi sia il collegamento con la rete provinciale che con la rete regionale degli sportelli che, come vi dirò, costituiscono un altro punto di forza di questa esperienza, per lo meno per come la stiamo vivendo noi in Lombardia da quando negli ultimi mesi è nata. Allora, una brevissima introduzione storica. Il gruppo, il comitato locale di Attac Saronno è attivo sul fronte della sanità suo malgrado dal lontano 2008 perché in quella data ci fu il primo tentativo di privatizzazione attraverso fondazione dell'ospedale di Saronno, allora sostenuto dall'assessore regionale alla sanità Alessandro Cè della Lega. Per un buon decennio si è assistito a che cosa? A un progressivo depauperamento di quelli che erano i servizi presenti all'interno dell'ospedale cittadino, poi è arrivato in qualche maniera il Covid dopo che qualche tentativo di proporre anche dei piani di rilancio dell'ospedale da parte della politica anche regionale era stato restituito al mittente da parte di chi governa la regione Lombardia. L'ospedale di Saronno diventa ospedale Covid durante il periodo Covid ma ha già visto bene di chiudere alcuni reparti nevralgici, penso solo al punto nascite tanto per citarne uno, e così quando alla fine del periodo pandemico le promesse non si mantengono da parte delle autorità sanitarie e della regione e non si riaprono i reparti che sarebbero dovuti ritornare in auge comincia la protesta dei cittadini. Ovviamente sin da fine 2020, inizio 2021 siamo alla testa di alcuni cortei prima sparuti, poi sempre più numerosi che si situano sostanzialmente davanti all'ingresso del nostro ospedale cittadino, fino ad arrivare, visto il rischio concreto di chiusura o privatizzazione dello stesso, a una manifestazione cittadina di 1500 persone che portiamo in piazza il 15 aprile dello scorso anno. Vado davvero per sommi capi ma anche per dirvi che insieme a questa il fatto di aver poi presidiato tra giugno e luglio, quando fisicamente il nostro ospedale sarebbe potuto essere chiuso per carenze gravissime di personali in alcuni reparti nevralgici come anestesia, riamminazione, cardiologia, e pronto soccorso, ebbene l'ospedale non viene chiuso, la regione opta per una soluzione tappabuchi, di cui avete certamente sentito parlare, e cioè i medici a gettone piuttosto che le cooperative strapagate, ci ritorniamo dopo. Sta di fatto che in quello stesso periodo il lavoro che abbiamo fatto anche di disseminazione in città, perché non è soltanto ATTAC ma esiste un vero e proprio comitato cittadino che si chiama il Saronnese per l'ospedale della sanità pubblica, a occuparsi della vicenda che riguarda per l'appunto i servizi sanitari nel loro complesso, noi chiediamo non solo il rilancio reale dell'ospedale cittadino, ma anche una vera casa di comunità, casa di comunità che in Lombardia ricalcano molto blandamente l'esperienza delle case della salute per come sono previste dalla normativa e che dopo avere avuto il taglio del nastro del Bertolaso di turno, assessore regionale in campagna elettorale, sono state lasciate lì a essere sostanzialmente le vecchie sedi di distretto sociosanitario con una targhetta diversa per il pubblico. Nessuno dei servizi sostanzialmente o quasi che sono previsti come base per le case di comunità, al di là dei tagli che poi il governo attuale ha previsto anche in regione Lombardia per le case che dovevano essere implementate, ci fa dire che un altro versante di lotta è quella come un altro ancora, e riprendo il discorso che ha iniziato Edoardo che ringrazio, lottiamo perché i medici di medicina generale che dalle nostre parti come da molte sono sostanzialmente in turnover causa pensione di molti di loro non vengono in molti casi sostituiti lasciando proprio fisicamente i cittadini anche senza medico o senza un medico che possa fare qualcosa di più di quella che è una ricetta ma non le visite tantomeno quelle a domicilio e già si è detto rispetto alle caratteristiche invece dei pazienti. Per cui una lotta che per noi sul territorio a 360 gradi ma cosa ci siamo detti l'anno scorso? Per fare un salto di qualità e per rispondere in qualche modo alla critica di quelli che ci dicevano siete bravi a parole, a portare la gente in piazza ma poi di concreto cosa fate? Al di là che un ospedale non ha chiuso l'estate scorsa un pezzettino di merito ce lo vogliamo prendere anche noi abbiamo però nel frattempo cominciato a come dire drizzare le antenne. In quel periodo il buon Vittorio Agnoletto con la sua trasmissione 37.2 su Radio Popolare cominciava a diffondere alcune tecniche per ricorrere contro l'assegnazione di visite mediche ed esami clinici oltre tempo e fuori luogo diciamo così da parte delle aziende sociosanitarie. Dentro questo percorso che in regione Lombardia si cominciava in qualche modo ad auto organizzare dal basso abbiamo intercettato l'esperienza del coordinamento lodigiano per la salute abbiamo invitato dalle parti di Saronno Andrea Viani Enrico Bosani insomma tutto il gruppo dei lodigiani che sono stati come dire la scintilla iniziale di questa rete di sportelli. Approfitto anche per salutare visto che sono presenti e collegati e anzi per intervenire se vorranno dopo completare qualcosa che inevitabilmente non sarà da noi detto. Che cosa facciamo? Tra l'altro loro in quel giorno in cui vennero a Saronno erano appena stati anche a Varese e questo testimonia di quella che sostanzialmente sarà poi la nascente rete provinciale che nei nostri territori è nata e vive tuttora e che credo rappresenti una risorsa importantissima così come quella regionale per l'operatività dei nostri servizi dal basso. Allora succede che loro ci portano non solo un'ottima come dire teoria di riferimento molto centrata sul tema dei livelli essenziali d'assistenza ma anche una procedura già estremamente dettagliata su come eventualmente poter fare i ricorsi ed erano già per loro prassi che iniziavano a sperimentare da qualche mese non solo a sperimentarle ma a verificarne l'efficacia concreta dato che erano prassi che sortivano un effetto particolarmente immediato o quasi e cioè quello per cui alle persone alle quali a fronte di un'impegnativa del medico di medicina generale che prevedeva la possibilità di avere da parte del servizio sanitario nazionale l'esame clinico l'esame medico la visita medica prescritta entro una determinata scadenza le urgenti le brevi le differibili le programmabili per quanto riguarda le indicazioni contenute nella ricetta e in un territorio che non fosse sostanzialmente irraggiungibile soprattutto da quegli utenti un pochettino più svantaggiati dal punto di vista degli spostamenti ebbene c'era questa possibilità invece tramite ricorso di avere più o meno immediatamente riconosciuto questo diritto individuale che era proprio quello ad averla invece questa prestazione erogata nei tempi consoni alla ricetta e nei luoghi consoni alla località di residenza del utente del servizio sanitario stesso come e perché il perché è presto detto è perché l'azienda sanitaria che risponde con un appuntamento tardivo o lontano fuori dall'azienda dall'ATS per quanto riguarda la Lombardia e quindi sostanzialmente da un confine che va un pochettino oltre quello che può essere l'azienda socio sanitaria territoriale bene questa risposta li colloca colloca le aziende stesse fuori legge e quindi hanno tutto come dire tutta la preoccupazione nel momento in cui si ricorra nei loro confronti rispetto a questo tipo di indicazione fornita ufficialmente nero su bianco con un appuntamento dal CUP dal centro unico prenotazioni o del territorio di riferimento spesso collocato come saranno avviene presso l'ospedale o da parte di quello che è il centro unico prenotazioni informatizzato o telefonico che ad esempio esiste in regione Lombardia e che fornisce poi in forma scritta quello che è l'appuntamento spesso a otto mesi dieci mesi quindici mesi insomma in ogni azienda sanitaria è anche disponibile online l'elenco di quelle che dovrebbe esserlo quelli che sono i tempi medi di attesa prestazione per prestazione molto spesso è intuibile senza anche avere l'esperienza diretta di dover fare una visita che stiamo parlando di tempi che nulla hanno a che fare con quelli che vengono prescritti dai nostri medici in medicina generale nel momento in cui appunto ci fanno l'impegnativa. Qual è l'effetto di questi ritardi di attribuzione di esami e di visite che molti cittadini e cittadini a rinunciano a curarsi perché non hanno fisicamente le risorse per farlo in quanto l'alternativa sarebbe ricorrere alla sanità privata con dei costi che variano dalle 3 alle 5 volte quella che è una prestazione che si può esigere invece pagando il massimo ticket 36 euro in Lombardia per quanto riguarda gli esami e per quanto riguarda le visite sostanzialmente siamo sempre intorno ai 22 euro e 50 questa è la tariffa che c'è da noi ma in alcuni casi anche maggiore mai maggiore di 36 euro comunque dall'altra parte il privato vi faccio un esempio molto semplice che proprio è fisicamente aggiornato la sanità privata che sul nostro territorio offre prestazioni sempre maggiori guarda caso proprio dove ci sono state le dismissioni di quelli che sono stati i reparti e le prestazioni in generale offerte dall'ospedale locale arriva a far pagare penso ad un'ecografia alla spalla molto banale 90 euro una prestazione che nel servizio sanitario nazionale si paga con 36 con la differenza che la si riesce ad ottenere ovviamente nel giro di una settimana al massimo laddove i tempi d'attesa sono estremamente lunghi nel momento in cui decidiamo rimanere all'interno del servizio sanitario. Roberto scusa ti si è abbassato il microfono cioè parli di si sente di meno perché io sto parlando allo stesso livello di voce e allo stesso livello comunque mi avvicino e fammi sapere se la cosa persiste così io cerco di tenere un tono di voce alta una distanza inalterata dal microfono grazie questo cosa significa significa che decidiamo di aderire a questa rete nascente scoprendo felicemente che in provincia di Varese esistono già delle situazioni in stadio anche più avanzato del nostro e che sono soprattutto in grado attraverso anche la presenza di organizzazioni strutturate al loro interno penso alle ACLI penso alla CGL penso ad alcuni soggetti della cooperazione sociale nonché dell'Auser con questo tipo di rete riusciamo anche ad organizzare dei momenti formativi tenuti da legali da operatori operatrici anche sindacalizzati dei vari CUP piuttosto che da medici e operatori del sistema sanitario che dall'interno ci spiegano i meccanismi di funzionamento su quello che potrebbe essere proprio come dire l'operatività quotidiana degli esportelli grazie a loro vengono elaborati anche dei modelli che si basano molto anche sull'esperienza rodigiana dei ricorsi che possono essere fatti che sono di tipologie differenti di questo magari vi parlerà Giuliana successivamente e con questa strumentazione e soprattutto con delle sedi fisiche che anche grazie alla presenza delle reti di cui vi parlavo sopra è stato possibile avere fisicamente presenti sin da subito sul territorio riusciamo a far partire con l'inizio di novembre del 2023 una serie di situazioni che sono per l'appunto gli sportelli in provincia di Varese che si vanno ad affiancare a quelli in quel momento esistente in provincia di Lodi nascenti anche in provincia di Milano oggi siamo quasi ad una quarantina di sportelli poi sarà Filippo a dire il dato più aggiornato in tutta la Lombardia il dato che accomuna tutti quanti noi a quello che a fronte di uno sforzo per avere una sempre più comune ed univica documentazione metodologia di lavoro e come dire risposta ai vari quesiti che nel frattempo si pongono perché le aziende sanitarie cominciano a difendersi dall'assalto di tutti i ricorrenti che nel frattempo sono diventati diverse centinaia e stanno avviandosi ad essere migliaia ebbene si lavora si va avanti a lavorare e lo si fa come nel singolo sportello con una piccola equip di persone noi siamo aperti faccio il nostro esempio ma innumerevoli sono le differenze un giorno a settimana prossimamente due nel momento in cui riusciremo ad avere anche un supporto ulteriore di volontari che stiamo acquisendo in questa fase siamo in 5 barra 6 in questo momento attivi all'interno dello sportello saronnese dalle 10 a mezzogiorno di tutti i venerdì mattina presso la camera del lavoro locale camera del lavoro che ci ha messo a disposizione tutta la strumentazione tecnica e quindi computer una rete informatizzata che ci dà accesso a tutta una serie di documenti specifici e automaticamente generabili insomma che sono proprio i testi dei ricorsi ma anche la possibilità di accedere a una PEC per inviare alle autorità sanitarie quello che è il ricorso in oggetto e ci hanno le fotocopiatrici e tutto quello che serve perché quello che noi chiediamo agli utenti è sostanzialmente di arrivare con un'impegnativa del medico che presenti una scadenza molto precisa di visita o d'esame richiesto un appuntamento che per iscritto è stato dato da un CUP sia esso locale o regionale e che ovviamente va fuori tempo massimo fuori località rispetto a quello che è la residenza del utente una carta d'entità un tesserino sanitario con questo in una ventina di minuti circa poi si vede un po' a seconda della complessità i volontari presenti in sportello riescono ad organizzare un ricorso io non mi trattengo oltre sulla questione di come funziona lo sportello ripeto perché lo farà già qualcuno dopo di me vi dico soltanto che le altre caratteristiche che in qualche modo ci stanno attraversando in questo tipo di esperienza sono sostanzialmente quella di avere comunque pubblicizzato la presenza dello sportello inizialmente più tramite passaparola o tramite le serate pubbliche in cui noi cerchiamo di far capire alla popolazione locale che le lotte sono collegate sono le lotte per l'ospedale e per i servizi sanitari territoriali e la lotta che portiamo avanti anche attraverso gli sportelli e attraverso questi canali come dire la conoscenza della presenza dello sportello è man mano cresciuta grazie anche alla presenza appunto delle reti quindi della cgl delle acli degli altri soggetti che sono presenti nei territori e che hanno provveduto ad informare anche i loro tesserati in qualche modo i cittadini vengono infine avvisati perché a Saronno abbiamo trasformato la continuità della mobilitazione della nostra lotta per i servizi sanitari in una serie di giornate che chiamiamo giornate per la sanità pubblica siamo arrivati alla decima la prima l'abbiamo fatta esordire al primo weekend di marzo di quest'anno e ogni sabato mattina c'è un appuntamento fisso nella piazza centrale Saronno dove noi siamo presenti con un gazebo unificato gestito da Sportello, da Taxaronno e dal comitato cittadino sostanzialmente per l'ospedale e la sanità pubblica in cui viene pubblicizzato tutto l'insieme delle iniziative che vengono sostanzialmente fatte sul territorio e questo riteniamo essere un veicolo di pubblicizzazione importante vado a concludere dicendo che, ma ci tornerà io credo presumibilmente Filippo l'importanza che diamo ai nostri ricorsi non è quella soltanto di avere il riconoscimento di un diritto individuale ma è quella, e qui la rete diventa importantissima dal punto di vista territoriale di avere anche dei numeri con i quali sia possibile andare a dimostrare che determinate prestazioni sono sostanzialmente deficitarie all'interno di quella che è l'erogazione dei servizi presiste dall'azienda sociosanitaria del territorio e quindi di avere l'opportunità di andare a fare le pressioni che anche Edoardo ricordava prima, pensiamo ai sindaci, ma anche direttamente nel rapporto con le direzioni generali delle aziende stesse perché la nostra legge regionale, pur essendo particolarmente poco favorevole agli utenti un po' di più ai vertici sanitari del territorio, consente comunque di arrivare fino addirittura alla richiesta delle dimissioni di un direttore generale che fosse ripetutamente inadempiente rispetto alla erogazione di alcune prestazioni all'interno dell'azienda che dirige quindi la forza dei dati aggregati diventa particolarmente importante vi do solo qualche numero ma volante perché li abbiamo appena finiti di redigere perché li stiamo raccogliendo a livello provinciale e anche maggiore saranno in questi cinque mesi abbiamo fatto ormai praticamente quasi cento ricorsi solo in cinque casi l'esito è ancora sospeso ed incerto in tutti gli altri è arrivata una risposta affermativa quindi l'efficacia dello strumento del ricorso si è dimostrata tale per cui la visita o l'esame clinico che sono stati richiesti e che avevano avuto inizialmente risposta da parte del cupo aziendale diciamo così a babbo morto e invece magicamente è stata ripristinata all'interno dei luoghi e dei tempi che erano previsti dalla prescrizione medica questo ovviamente è il frutto del fatto che il ricorso costringe le aziende a mettere in piedi come dire liste aggiuntive di disponibilità di appuntamenti per i medici o per chi si occuperà poi di effettuare gli esami strumentali non è un caso che circa 25 ricorsi sono ancora in sospeso rispetto alla risposta che sono proprio gli ultimi avvenuti nelle ultime tre settimane perché i tempi di risposta che noi avevamo dall'azienda sanitaria che inizialmente addirittura in giornata o al massimo in tre giorni a ricorso fatto ci dava la risposta affermativa sull'accoglimento del ricorso adesso può impiegare fino a 20-25 giorni perché stiamo cominciando davvero a mettere in crisi un sistema totalmente deficitario dal punto di vista della presenza di personale e o di macchinari all'interno delle nostre aziende sanitarie affinché possano effettivamente rispondere per tempo dentro il servizio sanitario nazionale a quella che è sostanzialmente la domanda che arriva sempre più pressante da parte degli utenti questo credo che sia un dato abbastanza importante così come credo che sia importante anche se non è fondamentale e sportelli ne possono nascere ovunque anche se non c'è su quelli una tradizione di lotta a favore dei servizi sanitari sul territorio come ci sta dimostrando l'esperienza e penso che Filippo ve ne parlerà più avanti di quello che è successo dopo l'andata in onda della trasmissione di presa diretta che ha portato a conoscenza di tutto il paese l'esistenza dei nostri sportelli e che sostanzialmente ci ha visto subissati a livello soprattutto regionale di una serie di richieste che come ricordava anche Marco Bersani prima stanno arrivando da tutta Italia laddove in altri territori penso all'Emilia Romagna penso anche alla Liguria stanno partendo delle reti regionali ma sappiamo che un po' in tutta Italia c'è mobilitazione dal basso concludo perché mi piace dire che una prospettiva importante del lavoro politico che svolgiamo all'interno degli sportelli è anche quella di sensibilizzare direttamente le persone che usufruiscono dell'attività di sportello e quindi chiedere loro o di affiancarci addirittura come volontari o di partecipare comunque alle iniziative che sul territorio vengono portate avanti sul tema della sanità mi taccio perché sono già andato lungo rispetto ai tempi che mi ero prefissato come vedo anche dallo sguardo severo del Marco Bersani e do la parola a Giuliana per l'attività dello sportello poi se non ti spiace Marco la riprendo io per ridarla a Filippo e in chiusura Filippo la ridarà direttamente a te grazie ciao a tutti io sono una dei cinque volontari sono Giuliana Carugati sono una dei cinque volontari che fanno parte che lavorano sullo sportello liste d'attesa di Saronno molte cose del nostro lavoro le ha già anticipate l'ha già anticipate Roberto per cui io sicuramente non sforerò i tempi sarò molto più succinta vi parlo praticamente della nostra esperienza che ha avuto inizio verso la fine ufficialmente diciamo così verso la fine di novembre del 2023 siamo partiti abbastanza in sordina anche perché lo sportello era ancora abbastanza sconosciuto noi stessi noi operatori stavamo ancora facendo la formazione che abbiamo fatto a Varese ci siamo un po' costruiti strada facendo attualmente dopo tutti questi mesi ci siamo abbastanza consolidati e avanti a parlare e attualmente insomma stiamo ottenendo anche dei dei buoni successi innanzitutto perché ci sentiamo molto molto più sicuri nel nostro lavoro e anche perché oramai è stata data un'ampia pubblicità al lavoro in generale alla nascita degli sportelli al nostro e anche allo sportello di Saronno premetto che lo sportello di Saronno lavora anche su tra virgolette un territorio abbastanza ampio perché noi siamo sulla siamo vicini sia alla provincia di di Milano che alla provincia facciamo parte della provincia sia della provincia di Monza Brianza per cui molti utenti che si rivolgono a noi arrivano proprio da da queste province e dalle loro relative ASST come ha detto Roberto attualmente lo sportello è aperto solo un giorno alla settimana ufficialmente aperto dalle dalle 10 alle 12 però diciamo che ha un'apertura molto più ampia perché viste le grandi richieste adesso apriamo molto prima e chiudiamo molto dopo per cui sostanzialmente lo sportello resta aperto quasi 4 ore non abbiamo scelto di non avere di sbagliare appuntamenti perché gli utenti che si rivolgono a noi devono già patire i lunghi tempi delle liste d'attesa se poi gli diamo anche gli appuntamenti che vanno di settimana in settimana insomma i tempi poi diventano ciclopici poi volevo sottolineare anche un altro un altro aspetto che sta un po' nelle cose e il nostro fondamentalmente è anche uno sportello un centro di ascolto perché tutti quelli che si rivolgono a noi chiaramente cercano un aiuto cercano un sostegno e soprattutto cercano di saperne di più perché non c'è assolutamente consapevolezza né dei diritti che hanno gli utenti per quanto riguarda le liste d'attesa ma non sanno addirittura neanche leggere le prescrizioni mediche per cui i codici di priorità sono i tempi che hanno per dover pretendere la visita o l'esame diagnostico né tantomeno anche i tempi di tolleranza che vengono aggiunti ai vari codici di priorità il nostro lavoro è un lavoro cioè la formazione è stata abbastanza buona il lavoro non è eccessivamente complesso però diciamo che bisogna prestargli molta attenzione diciamo che l'incontro con con l'utente io lo chiamo utente per per comodità l'incontro con l'utente quello cioè prevede vari step c'è un momento di accoglienza in cui appunto l'utente si rivolge a noi deve in base anche alla pubblicità le informazioni che abbiamo diffuso deve presentarsi necessariamente con la il documento di identità il scusate la tesserina sanitaria chiaramente la prescrizione e anche il la prenotazione perché è dalla prenotazione che noi chiaramente alla quale noi ci atteniamo per verificare se c'è ci sia o meno una inadempienza cioè se è stato dato un un appuntamento oltre i limiti le date stabilite dalla prescrizione stessa niente una volta raccolti i documenti ed è visto che appunto l'utente ha tutto il diritto di sottoporre di presentare un ricorso niente viene compilato un modulo per quanto riguarda la tutela della privacy che viene firmato dopodiché niente vengono compilati dei modelli un modello dove sostanzialmente c'è la sono modelli già già stampati già diciamo così studiati e sono stati divisi la loro tipologia è stata divisa sostanzialmente in tre tipi di inadempienza la prima che riguarda essenzialmente i tempi d'attesa per cui nel caso in cui l'utente cioè la prescrizione scusate la prenotazione superi i codici di priorità la seconda riguarda invece l'ambito del territorio di garanzia per cui nel caso l'utente si veda fissato un appuntamento oltre la nostra in un territorio diverso dalla nostra ASST o comunque dalla sua ASST di residenza e il terzo è diciamo quello in cui non non c'è nessun tipo di appuntamento fermo restando che che la risposta che molto spesso purtroppo viene data agli sportelli a scusate i CUD è proprio quello che quella delle agende chiuse che è una adempienza assolutamente diciamo così illegale che non può esistere ecco nel momento in cui abbiamo esaminato tutti i dati della della prescrizione niente viene stilata questa questo questo ricorso dopodiché si procede all'invio del del ricorso al al ai responsabili sia della ASST sia se ci sono anche ai responsabili ai RUA cioè ai responsabili delle liste d'attesa che non sempre ci sono che altro dire viene viene appunto inviato questa questo questo ricorso con una PEC la PEC è quella della della CGL Feder Consumatori che è praticamente l'associazione che ci ospita nel momento in cui scusate nel momento in cui appunto viene inviata si attende che ci sia la risposta da parte del di coloro a cui l'abbiamo inviata per cui sostanzialmente quello che dicevo prima ne viene inviata anche una copia per conoscenza all'utente e dopodiché si allega la risposta alla PEC si allega al ricorso quindi dandone una copia all'utente e dopodiché si attende che il ricorso possa avere un'accoglienza come diceva prima Roberto i tempi inizialmente sono stati molto molto veloci quasi sbalorditivi attualmente si sono un attimino più allungati però circa nel 98% dei casi almeno per quanto concerne l'esperienza dello sportello di Saronno ma credo che sia una cosa abbastanza comune a tutti gli sportelli della provincia di Varese i ricorsi vengono raccolti l'affluenza ovviamente è aumentata molto rispetto ai primi tempi appunto per effetto della pubblicità e l'eco che è stato dato anche su media diciamo che ci sono sempre delle criticità per cui ci stiamo ancora formando e queste criticità riguardano soprattutto ovviamente le liste d'attesa che in realtà non esistono comunque le liste d'attesa che riguardano le strutture private convenzionate ecco diciamo che quello è un settore dove non abbiamo molte sicurezze ci stiamo muovendo un po' a tentativi però purtroppo rappresentano insomma un grosso problema anche perché il numero verde della regione Lombardia provvede a a fissare delle degli appuntamenti presso queste strutture però non sempre queste strutture innanzitutto sono raggiungibili e poi non sempre queste strutture cioè agiscono in maniera in maniera corretta che altro dire facciamo appunto la situazione cioè la nostra attività non è molto complicata anche perché adesso appunto ci siamo impratichiti però diciamo che anche la situazione è molto in movimento per cui molto spesso ci troviamo di fronte a dei casi che non abbiamo mai avuto prima ed è importante comunque nonostante i supporti eccetera è molto importante il confronto che abbiamo anche in maniera abbastanza continua sia con i nostri amici e formatori della provincia di Varese che di Varese che anche ci siamo rivolti anche ad Agnoletto eccetera eccetera per avere così dei sostegni in questo senso prossimamente forse verrà aperto un secondo un secondo sportello che è ancora un po' in fase di di così di organizzazione e non ho più niente da dire se volete eventualmente in seguito mi fate delle domande sulla base della nostra esperienza acquisita grazie grazie Giuliana io do subito la parola a Filippo Bianchetti animatore degli sportelli in provincia di Varese e nonché prezioso supporto nella rete regionale Lombarda prego Sì ciao sono un medico di base in pensione sto a Varese alcune cose ne potranno magari precisare meglio anche Andrea Viani e Enrico Bosani che sono presenti a questa riunione vi dico qualcosa insomma cerco di farla corta beh il coordinamento regionale Lombardo coordinamento Lombardo sportelli salute questo è il nome ha un sito una mail e come è già stato detto ha ricevuto molte richieste di aiuto di chiarimento da parte di singoli di gruppi da tutta Italia e sulla spinta dell'esempio Lombardo sono già formati dei coordinamenti regionali scusate in Veneto in Emilia Romagna e in Liguria e sono in corso contatti un po' con tutte le regioni quindi diciamo che questa spinta dal basso funziona come nel senso che riscontra molto entusiasmo in tutti quelli che la sentono basta dire cominciamo e i volontari si fanno avanti bisogna organizzare il lavoro e cercare di rendere più omogenea possibile l'attività con fornendo cercando di elaborare degli strumenti migliori possibili per ottenere risultati la reazione degli enti sanitari è per quello che si può capire di tendenziale chiusura sembra che si stia realizzando una tendenza a non rispondere ai nostri ricorsi che rappresenta una doppia inadempienza si può configurare probabilmente qualche reato io non sono legale ma l'interruzione di pubblico servizio credo che sia una fattispecie che si può ipotizzare ovviamente il nostro intento non è quello di ricorrere alla magistratura a ogni piesso spinto però quando occorresse sì cosa che è già stata fatta anche con qualche risultato da Lodi che ha più esperienza di tutti quello che riscontriamo è la possibilità di ricorrere all'aiuto di un'entità che dovrebbe esistere dappertutto che è il difensore regionale che è indipendente dall'amministrazione regionale e che svolge un'azione di controllo verifica e stimolo su sulle problematiche collegate con l'applicazione delle leggi sanitarie e che quando lo consultiamo praticamente sempre ci dà ragione prende una posizione autonoma verso le amministrazioni a sostegno sostanziale dell'azione degli sportelli poi c'è anche i NAS che hanno una competenza adesso anche sul mondo della sanità e che sono attivi ovviamente autonomamente e con i quali però ci si può rapportare per segnalare delle situazioni di particolare anomalia quindi non è che non ci siano dei supporti però insomma anche la nostra azione si vede che è efficace perché ovviamente ancora non preme sulla soluzione vera delle problematiche e cioè il miglioramento dell'organizzazione del servizio sanitario pubblico cioè sostanzialmente assunzioni posti letto formazione di personale creazione di ambiti dove possa trovare risposta alla domanda del pubblico ma ovviamente ancora prevale grandemente la spinta privatistica e questo è l'obiettivo di lungo periodo i nostri ricorsi lo sottolineo sono volti a chiedere l'appuntamento in ambito pubblico solo in subordine chiediamo che venga dato un appuntamento in ambito accreditato convenzionato questo avviene ma non è così frequente anche perché anche il direttore generale della SST che ha la responsabilità della risposta alle richieste del cittadino trova le sue belle difficoltà a rapportarsi con dei convenzionati generalmente piuttosto aggressivi nel negare la prestazione in ambito pubblico e di lottarla verso il privato privato oppure verso forme intermedie che sono al limite del ancora un'altra volta del reato con queste definizioni strane di privatino o semiprivato per cui ti offrono dei servizi il servizio a un costo intermedio fra il ticket e il privato privato insomma ne combino in tutti i colori ma di dare l'appuntamento con il servizio internazionale i convenzionati non interessa proprio sembra che sia così se non come strumento per catturare dei clienti vabbè quindi e poi solo in subordine ancora la richiesta può diventare la richiesta della rimborso della prestazione di intramenia o del rimborso della prestazione del privato privato che io sappia non è mai successo che un direttore generale abbia dato un appuntamento un appuntamento nell'intramenia oppure che abbia deciso di rimborsare il privato privato adesso ho letto che in Veneto la regione ha dato mandato alle ASL come li chiamano da loro di rimborsare il privato privato ma qualcuno ne sa forse più di me in realtà i ricorsi mirano a ottenere l'appuntamento nell'ambito pubblico perché ovviamente noi facciamo il tifo per la salita pubblica non vogliamo sostenere il privato neanche di strisce vabbè l'attività di un coordinamento regionale è un'esperienza interessante che va oltre all'organizzazione di una rete provinciale o comunque locale di sportelli molto interessante anche quella perché per esempio in provincia di Varese si è riusciti a fare 12 sportelli ben distribuiti quindi un bel risultato anche se con qualche difficoltà anche ora però sostanzialmente siamo riusciti siamo molto contenti di questo e credo che la stessa cosa si possa fare abbastanza facilmente un po' dappertutto l'idea ovviamente è quella di raggiungere uno sportello una distribuzione tipo uno sportello per ogni ASST che mi pare che in Lombardia sia 21 o 23 un numero del genere quindi in modo da disturbare un po' tutti i direttori generali della Lombardia disturbarli positivamente insomma forzandoli a fare il loro dovere e vabbè quindi ciascuno nel suo territorio può benissimo dare inizio a questa attività non è troppo difficile si trovano alleanze abbastanza facilmente per quello che riguarda come si organizza un coordinamento regionale beh ciascuno si organizza come vuole però noi abbiamo visto che occorre fornire degli strumenti quindi abbiamo istituito dei gruppi di lavoro che si occupano di un settore per tutti cercando di individuare delle modalità o degli strumenti i più corrispondenti alle necessità i più facili da usare i più capaci di dare un riscontro del lavoro fatto per cui abbiamo creato un gruppo moduli modulistica nel senso di cercare individuare i moduli in uso che non sono affatto uguali in tutti gli sportelli studiarli e valutare quali sono le soluzioni migliori moduli per fare ricorsi evidentemente e poi un gruppo per la raccolta dei dati perché è molto importante sia a livello del singolo sportello che a livello di provincia o di area locale che a livello regionale avere un'idea dell'andamento con dei dati utilizzabili anche per fare eventuali ricorsi collettivi cioè andare a dimostrare che le inadempienze non sono affatto circoscritte ma sono un fenomeno generale che deve trovare una soluzione generale e non solo individuale abbiamo creato un gruppo problemi perché i problemi ne sorgono e quindi individuarli e studiare delle soluzioni le più efficaci le più semplici da proporre a tutti ci sembra un compito molto importante perché poi altrimenti il singolo volontario o lo sportello si ritrova il problema non sa come fare e si arrabatta in qualche modo però questo arrabattarsi in qualche modo ha dato luogo già a diverse invenzioni che sono molto utili da condividere poi stiamo cercando di costruire un gruppo di supporto legale in Lombardia che sia di riferimento per tutti i gruppi di cui ho detto perché ognuno di questi in particolare comunque il gruppo problemi ha grande aggioramento da confrontarsi con i pareri legali che si dedichino a questa attività non c'è una struttura gerarchica o non ci sono cariche si lavora in modo trasversale orizzontale facendo periodicamente delle assemblee generali di tutti gli sportelli che servono a dare linee generali al lavoro di tutti per chi vuole ovviamente l'adesione ai consigli che vengono al coordinamento è tutto volontaria perché è volontariato puro questo ciascuno interpreta questa cosa un po' la sua maniera ed è bene anche perché ripeto la fantasia dei singoli è molto fertile io non credo dover dire altro rimango qua vi raccomando di fare qualche domanda anche a Andrea Viani e a Enrico Bosani che sono qui che sono molto più bravi di me nell'esporre questi aspetti ciao bene grazie al trittico che ci ha raccontato come si fa lo sportello come si coordina come si rapporta ai cittadini e ai cittadine diciamo che abbiamo mezz'ora non di più di possibilità di interventi c'è Giorgio Ferrari che ha alzato la mano da un po' Giorgio grazie buonasera a tutti e tutti mi sentite innanzitutto sì ok allora io faccio parte del coordinamento regionale sanità del Lazio che si è formato sei anni fa circa comunque pensionati lavoratori e lavoratrici su base volontaria ovviamente i temi di cui ci siamo occupati molto spesso insieme a Edoardo e agli altri compagni riguardavano sia la salute senso più largo che i problemi della sanità sarò velocissimo non voglio assolutamente sottrarre tempo e ci siamo occupati come tema specifico particolare per esempio della condizione amministrativa diciamo così di quelle persone migranti che non hanno accesso diretto alle strutture sanitarie diciamo pure al servizio sanitario nazionale quindi per permessi di soggiorno queste cose qui quindi una complicazione spesso sono anche persone che occupano unità abitative quindi che vivono determinate condizioni questo come tema e poi altri temi non sto a elencarli tutti ma in particolare insomma quello sull'aspetto su cui volevo intervenire era quello delle liste di attesa è stato illustrato ampiamente da per quanto riguarda la Lombardia che tipo di attività viene fatta lì con gli sportelli noi l'abbiamo cominciata diciamo se non subito quasi subito quindi sicuramente cinque anni che ci occupiamo di questa questione esattamente nei termini in cui è stata descritta e cioè facendo conoscere questa legge nazionale la 124 del 98 su cui sostanzialmente si basa la possibilità di fare ricorso in stretto collegamento questo ci tengo a sottolinearlo con quelle che sono innanzitutto il piano nazionale di gestione delle liste d'attesa e poi i piani regionali che traducono regione per regione gli indirizzi del piano nazionale di gestione delle liste d'attesa vanno sempre letti insieme perché insomma ci sono parecchi riscontri abbiamo iniziato stilando abbiamo stilato un piccolo ademecum che illustrava come comportarsi quando appunto viene dato un appuntamento fuori dei tempi massimi e i tempi massimi sono quelli fissati dal piano nazionale e recepiti sostanzialmente non ce n'è uno che abbia derogato da quei giorni fissati nel piano nazionale da tutti i piani regionali di gestione delle liste d'attesa questo patumeco spiegava come comportarsi quindi c'era anche alla fine di questo patumeco è un modello di ricorso da riempire e trasmettere via PEC e via mail ovviamente e questo patemecum che ha sì dato dei risultati positivi ma numericamente scarsi perché per quanto noi insomma ci sforzassimo siamo numericamente limitati siamo operativi sulle 6-7 persone non di più anche se poi complessivamente potremmo considerarci un po' di più e per quanto ci sforzassimo di distribuirlo presso le asle o anche altri luoghi come i mercati regionali dove solitamente si incontrano tante persone il riscontro poi ma proprio perché il mezzo abbiamo capito non non è di quelli immediatamente fruibili si perdono spesso i foglietti voi lo sapete chi ha fatto insomma distribuzione meditanza sa che spesso che fine fanno non gli si dà troppo critico il fatto di doverli leggere insomma e allora a fine anno abbiamo concepito di fare un video che spiegava sostanzialmente che spiega anzi sostanzialmente quello che c'era scritto nel patemecum questo video è andato in onda diciamo così oggi lo trovate su youtube su diversi canali se cliccate su carovana salvavisite o coordinamento regionale sanità e l'abbiamo proprio chiamata abbiamo pensato di fare una campagna di alcuni mesi che è cominciata metà gennaio fine gennaio seconda metà di gennaio in cui ci reghiamo con questo video con la distribuzione del patemecum e con uno striscione con degli altoparlanti insomma presso le sedi delle asle soprattutto a Roma ma anche in alcune province di Roma del Lazio scusate e distribuiamo questo volantino ma soprattutto quello che ha funzionato enormemente è stato proprio il video perché insomma un agilissimo strumento di tre minuti mi spiega come comportarsi questo video ha avuto una grandissima discussione anche sopra le nostre aspettative e anche noi oggi chiederei di chiudere se puoi molti altri interventi oddio vabbè la sostanza è veramente difficile dire qualcosa in tre minuti perché lo so ho capito va bene che vi devo dire questo video ci scrivono da tutta Italia è diventato non importa se virale o meno è uno strumento il video ma soprattutto questa cosa di gestire le liste d'attesa dal basso uno strumento importante andrebbe replicato servono però evidentemente più energie noi siamo assolutamente piccoli non abbiamo strutture non possiamo aprire sportelli perché non abbiamo sedi facciamo tutto per telefono o per mail avere un'organizzazione a disposizione sarebbe molto molto più efficace l'obiettivo ovviamente non è quello di fare assistenza agli utenti per quanto poi alla fine quando serve la facciamo pure ma di fare strumenti di pressione presso le strutture sanitari regionali giovedì scorso abbiamo fatto una manifestazione nel 16 io personalmente sono stato insieme ad altri in delegazione presso la regione Lazio a un assessore regionale abbiamo consegnato proprio un promemoria per Rocca che è il presidente e anche assessore alla sanità in cui insomma elenchiamo non ve li sto a dire e non ho tempo i punti essenziali per azzerare le liste d'attesa e anche per la c'è anche il discorso della presa in carico non ho tempo di farlo ma insomma ecco qua grazie è andata così grazie Giorgio allora ci sono sei interventi cerchiamo di autolimitarci nei tempi così riusciamo altrimenti rischiamo che poi nell'ordine Sand Edoardo Dei Cas Claudio Pulotta Adelina di San Vito Pordenone Martina e poi Enrico Bosani quindi Sand chiunque tu sia puoi andare intanto io vado a caccia di Maria Carlo intanto buonasera grazie dunque sono Sandra rappresento un comitato feltrino della provincia di Belluno Veneto e quindi mi riallaccio un po' al signore di prima che chiedeva il discorso del Veneto come funzionava il rimborso e in questi giorni è emersa da parte delle ASL ovviamente lo stesso funzionamento che avviene già in Lombardia cioè solo il direttore generale può dare eventualmente la possibilità di avere dei rimborsi su autorizzazione o in Intramenia o appunto nel privato convenzionato quindi credo che sia uniforme diciamo che noi faccio parte anche di Covesap che è questo coordinamento Veneto e proprio grazie a questo coordinamento le varie province si stanno muovendo per l'apertura di sportelli c'è stato un comitato in particolare della provincia di Vicenza che con vari incontri con Andrea Aviani che è qui presente insomma si è attivata questa cosa e sta partendo ovviamente io volevo solo dire questo che il grasso lavoro di questo comitato Vicentino è stato anche quello di riformulare i moduli la modulistica in base a disposizione della regione Veneto quindi una delle cose da fare è effettivamente poi fare le valutazioni sulla propria regione mi ponevo al di là insomma di essere assolutamente convinta dell'importanza di questo ricorso collettivo che da individuale passa a collettivo noto comunque nel Veneto alcune criticità allora mentre Covesa si sta attivando in questo senso ci sono purtroppo altre realtà che si sono invece si stanno attivando consegnando alla singola persona il modulo e credo che questo possa creare dei problemi in quello che poi è la raccolta di dati aggreganti comunque questo è un lavoro che dovrà fare probabilmente Covesa nei riguardi di queste realtà che stanno facendo una cosa completamente diversa cioè dando semplicemente il modulo alla persona che faccia ricorso mi ponevo comunque due domande anche al signor Edoardo Turi di Medicina Democratico o chi vuole rispondere sulla cosiddetta appropriatezza e su questa questione appunto dei farmacisti ai quali potrà essere dato concesso di poter fare determinati esami sulla appropriatezza perché diciamo la lista d'attesa o meglio la prescrizione potrebbe anche in qualche modo non essere più data e secondo me è una cosa grave perché insomma il medico di medicina è il medico personale e in qualche modo conosce il proprio paziente e per quanto riguarda i farmacisti perché insomma si sta evolvendo un po' questa idea che anche i farmacisti possono fare degli esami poi per quanto riguarda la regione Veneto solo per dirvi che si stanno muovendo stanno valutando un nuovo piano regionale proprio nello specifico sulle liste d'attesa ma è comunque chiaro che qualsiasi provvedimento che venga preso non deve comportare spesa a carico del bilancio regionale quindi è tutto da che dire io qua mi taccio e vi ringrazio tantissimo grazie Sandra allora Edoardo dei Cass e poi Claudio Culotta cerchiamo di stare sempre in tempi brevi perché non abbiamo tanto tempo buonasera Edoardo della Banca del Tempo Valfurva la mia domanda un po' tecnica nel senso che si parlava appunto di formazione quindi chiedevo se è possibile fare una formazione anche online per i volontari o come avete fatto voi a Saurono in questo caso perché credo che comunque bisogna bisogna studiare un po' la cosa poi altra domanda parlo del nostro caso in questo caso Valtellina perché il nostro territorio è montano con delle grosse difficoltà di collegamento perché è una linea di 120 km ma vi assicuro che percorro lì è un dramma e chi lo conosce lo sa bene per cui siamo in mano se va bene volontari perché siamo stati Sondolo sta qui dentro purtroppo questo è un altro fatto il grande ospedale di Sondolo dopo il grande apporto che ha fatto durante il periodo del Covid è stato dimenticato come tutte le promesse che sono state elencate prima per cui siamo in grossissima difficoltà perché noi non abbiamo ospedali vicini quindi ci affidiamo esclusivamente all'elicottero ci sono 5 elicotteri in Lombardia e qui da noi tra l'altro vengono spesso volentieri per problemi anche di incidenti volontari però non si garantisce più nemmeno il primo intervento che dicevo grazie ai volontari che ci sono ma qui viaggiamo grazie ai volontari che arrivano in ambulanza senza nessuna preparazione specifica se volete dei corsi di formazione non c'è manco l'infermiere arriva il medico in caso di necessità ma arrivare a Sondolo ci vuole più di un'ora per cui sono già successi dei casi questo è solo per far capire il problema e qui l'altra domanda dato è sempre una domanda magari anche stupida ma dato che nel nostro territorio le risposte anche alle prenotazioni sono complicate e c'è veramente poca possibilità qualora quindi bisogna andare all'esterno del proprio ambito territoriale possiamo fare qualcosa come come aiuto ai pazienti grazie grazie Edoardo Claudio e poi Adelina grazie allora io sono Claudio Culotta da Genova Claudio più vicino al microfono perché ti si sente male sì Claudio Culotta da Genova volevo dire che naturalmente è un'iniziativa interessante quella degli sportelli sulle liste d'attesa ma è anche vero che non basta per risanare il servizio sanitario nazionale che ha dei problemi molto profondi quindi il problema è assai complesso e richiederà richiederebbe richiederà non so se potremo farlo altri approfondimenti e volevo però dire che la legge 833 del 78 che naturalmente definiva un buon modello di servizio pubblico basato sulla prevenzione naturalmente oltre che diagnosi e cure eccetera nella sua applicazione prima delle leggi 502 517 e 229 non era esente da criticità ad esempio sovrapposizione fra funzioni politiche e funzioni gestionali mancanza di controllo di gestione e mancanza oserei a dire quasi assoluta di responsabilizzazione dei dirigenti a partire dai dirigenti medici ma anche amministrativi riconoscimento dei costi a piedi lista pagamento dei ricoveri ospedalieri in base alle giornate di degenza per alcuni ricoveri c'erano 30 e più giornate di degenza assolutamente incongue ora l'aziendalizzazione di per sé non è un fatto negativo intendo dire non è un fatto negativo di per sé in quanto comporta un controllo di gestione e una responsabilizzazione dei dirigenti rispetto quindi anche i dirigenti medici soprattutto rispetto a costi e risultati in un altro ambito per esempio la gestione dei servizi idrici o dei trasporti noi mi pare che affermiamo che le aziende pubbliche municipalizzate purché siano ben gestite sarebbero opportune e invece l'esternalizzazione cioè l'acquisto di prestazioni dal privato oppure io cerca di andare al succo del ragionamento ho finito i gettoni gli straordinari è un reale pericolo così come tutte le forme di conflitto di interessi libera professione intramenia secondo pilastro assicurativo eccetera sono tutti meccanismi che favoriscono e finanziano la sanità privata quindi e credo che una valida riorganizzazione delle cure primarie cioè le case della comunità ospedale di comunità infermieri di famiglia di comunità potrebbe credo spero ecco che realmente possa rappresentare un contributo positivo come del resto avviene in alcune regioni per esempio ci risulta qui in Liguria che in Toscana e Emilia Romagna e anche in altri paesi esteri come Portogallo e Brasile e come è stato affermato ma da decenni da decenni dall'organizzazione mondiale della sanità per esempio Alma-Hatta nel 1978 e chiudo scusate così la fretta ma ok grazie grazie Claudio scusate ma io devo fare un po' la parte antipatica perché ovviamente questa è soprattutto una giornata di formazione ovviamente c'è spazio alla discussione ma poi i tempi sono quelli che sono allora io adesso ho segnato anche chi ha chiesto la parola non prendo più interventi perché se no ci troveremo poi a parlare 4-5 allora adesso c'è Adelina poi Martina cerchiamo di tenere dei tempi accettabili chi deve far domande fa domande chi deve dire dei concetti dica il concetto magari senza troppe cose intorno magari ce le diciamo un'altra volta le cose intorno Adelina ecco scusate la voce molto influenza e allora grazie tutto passo all'argomento noi qui un tanto rassicuro il compagno di Roma che il video è arrivato anche qua in Friuli l'abbiamo visto ed è molto interessante noi stiamo cercando a San Vito al Tagliamento a 15.000 abitanti un mandamento di 40.000 è inserito nella provincia di Pordenone e in tutta la provincia ricade un'azienda sanitaria l'organizzazione è totalmente diversa dalla Lombardia ovviamente ma non c'è tempo di parlare però nella regione ci sono tre aziende sanitarie e ogni azienda sanitaria gestisce le liste d'attesa a modo suo con delle procedure che da qualche volta sono chiare altre volte non sono chiare per la nostra esperienza del Pordenonese ci troviamo infatti questa è la domanda che volevo farvi uno scoglio che hanno messo questo parametro che è la richiesta di attivazione della procedura di garanzia si è effettuata entro quattro giorni ma naturalmente questo per esempio non potrebbe avvenire avvenire cioè se fossimo con i vostri sportelli che sono aperti una volta alla settimana molte persone non potrebbero usufruire di questo servizio allora io vi chiedo si stanno facendo i sportelli presso la CGL oltre a quello che riusciamo a fare noi come attivisti del comitano vi chiedo se a voi risulta forse Turi mi può aiutare oppure voi che avete esperienza e già siete così ben organizzati se un limite di questo genere sia legale oppure no perché io non l'ho riscontrato nella legge regionale che gestisce le liste d'attesa e perché come diceva qualcuno si parte dalla nazionale ma poi ogni regione delibera per conto suo e niente vi chiedo questo in un attimo magari ci confrontiamo sulle metodiche grazie grazie Adelina Martina poi Enrico Bosani sarò velocissima vi risparmio che cosa sta succedendo in provincia di Sondroma stanno nascendo diversi sportelli che ognuno va un po' per conto suo la mia domanda era rivolta agli operatori di Saronno piuttosto che al coordinamento regionale ed è relativo al problema della privacy come trattate l'accesso e l'eventuale conservazione di parte della pratica ai fini del conteggio dei dati grazie grazie Martina Enrico Bosani poi c'è Gina De Angeli ciao ciao a tutte e tutte io darò alcune risposte la prima è per la formazione l'abbiamo fatta la facciamo siamo disponibilissimi a fare la formazione ed è abbastanza semplice da fare abbiamo costruito un manualetto operativo che ci dà una mano sotto questo punto di vista quindi si riesce a farla abbastanza semplicemente la seconda cosa che volevo dire è questa lo sportello è uno strumento fondamentale importantissimo e fortissimo ed è lo strumento che serve alla popolazione alle persone a vedere rivendicato proprio diritto alla salute la distribuzione dei moduli non è efficace perché lascia la persona da sola lo sportello è uno strumento efficace perché la persona viene assistita dall'inizio alla fine entra a far parte della rete dello sportello e lo sportello segue tutta la vicenda fino alla fine è un moltiplicatore di forza noi l'abbiamo moltiplicato a livello regionale in Lombardia lo stiamo moltiplicando in Veneto con l'aiuto prezioso del Covesa sono partiti in Emilia sono partiti in Piemonte in Liguria stanno facendo un lavoro splendido si può fare in Sardegna abbiamo diversi contatti così come nelle Marchie dove sono stati settimana scorsa vanno moltiplicati vanno collegati e vanno distribuiti su tutto il livello nazionale le forze potrebbero esserci per fare questa cosa soprattutto è importante sapere che quello che stiamo facendo lo facciamo sulla base della Costituzione delle leggi nazionali ma soprattutto dei livelli essenziali di prestazione e dei livelli essenziali di assistenza ILEA e LEP che sono delle leggi di norma costituzionale e sono assolutamente rivendicabili le aziende sanitarie non ci danno risposte perché sono buone e perché non possono fare altrimenti e potrebbe diventare uno strumento fortissimo la privacy noi abbiamo costruito nel manoletto c'è tutto un modello di liberatoria per la privacy che è efficace ed efficiente e possiamo utilizzarlo dovunque teniamo presente che il diritto anzi il diritto la possibilità di rivendicare il proprio diritto in modo individuale e collettivo è tutelato dalla Costituzione anche lei quindi gli sportelli non devono avere alcun tipo di veste giuridica le persone si mettono insieme rivendicano proprio diritto individuale cosa fondamentale il diritto collettivo noi facciamo anche ricorsi collettive abbiamo cominciato a farli a breve a breve a ottobre avremo anche una un passaggio in tribunale per il primo che abbiamo fatto perché è importante che si tuteli il diritto della persona ma è fondamentale che si tuteli il diritto collettivo alla salute possiamo farlo tutti insieme il mio invito è quello ciao ciao grazie Enrico allora Gina e poi Patrizia Ciccanti Gina De Angeli sarò brevissima raccolgo il tuo invito allora soltanto un'informazione oggi parte la campagna contro le liste d'attesa che abbiamo lanciato a livello roscano io faccio parte del coordinamento della salute e che si chiama Sasse salute sanità ambiente perché abbiamo partecipato proprio perché abbiamo lanciato la campagna abbiamo trovato interessante tutto quello che avete detto il tempo è breve perché io credo primo che bisogna metterci in rete e scambiarci il materiale noi abbiamo prodotto manifesti abbiamo prodotto puscoli è inutile fare l'elenco ve li spediamo siete interessati e noi siamo interessati ad avere il vostro materiale seconda questione c'è un fatto importante se le questioni delle liste d'attesa sono regolate in parte da leggi nazionali sarebbe importante capire come si muovono le varie regioni perché la regione toscana ha misure che sono diverse da quelle da Lombardia per cui la sintesi è scambiamoci il materiale rimaniamo in rete e vediamo se da questo lavoro che stanno partendo a livello regionale ma c'è un respiro nazionale possiamo arrivare ad una scadenza unitaria per mettere a centro questa questione delle liste d'attesa che poi mette a centro una parte dei problemi della sanità pubblica grazie e chiudo grazie Gina Patrizia Ciccanti poi Rino Tortorelli poi basta e darei la parola a Edoardo Turi e a Roberto Guaglianone nel caso ci siano altre domande che non hanno avuto risposta quindi Patrizia e poi Rino mi sentite? sì buonasera allora due domande quando l'azienda non risponde alla PEC primo dobbiamo va reiterata la richiesta va reiterata la PEC o va si procede direttamente con la magistratura o e questa è una domanda se è così l'altro è molto spesso almeno nella nostra zona ma anche nella regione Marche io sono di Ascoli nella regione Marche le visite di controllo va bene non vengono prenotate dagli specialisti come dovrebbe essere per norma proprio anche regionale come vi regolate di conseguenza perché molti sono soggetti a visite di controllo e con determinati tempi di attesa che non vengono rispettati anche se sono visite di controllo e non vengono prenotate dagli specialisti o dai servizi ambulatoriali l'altra cosa un attimo veloce veloce che risorsa e quale ruolo del comune e che come dire come spingere e su cosa spingere nei confronti dei comuni grazie grazie Patrizia Rino Tortorelli e poi diamo la parola ai relatori ciao a tutti dalla Spezia sulla questione generale brevissimamente che ha introdotto bene Edoardo parlando di servizio e non di sistema giustamente abbiamo costituito a livello regionale questo fronte comune Ligure per la salvaguardia tutela e rilancio del servizio sanitario pubblico che cerca di mettere insieme queste tre gambe associazioni sindacati e partiti diciamo così progressisti diciamo in centro-sinistra operazione difficile un po' faticosa ma che sta andando avanti anche con manifestazioni di piazza uno degli argomenti che stiamo affrontando sono proprio la questione delle liste d'attesa qui da noi diciamo abbiamo avuto dati negativi sul fatto che possa essere utilizzata l'intramenia in alternativa quando i tempi superano i limiti massimi posto che la regione non ha messo neanche un fondo una lira un euro anzi sul relativo budget per questo tipo di prestazioni sostituzioni appunto di prestazioni che andassero al di là dei tempi massimi abbiamo chiesto l'intervento del difensore civico che è uscito pubblicamente ma ciò nonostante non è servito assolutamente a niente un altro intervento del difensore civico abbiamo chiesto per ottenere una serie di dati che noi riteniamo essenziali per indagare questo fenomeno cioè numero di operatori a disposizione numero di macchinari orari di funzionamento ma soprattutto mi pare che non sia stato citato la compatibilità i dati sulla compatibilità delle prestazioni rese in intramenia con quelle rese in regime istituzionale su questo tema stiamo aspettando una risposta che però riteniamo non arriverà mai perché l'intento della regione è proprio quello di passare un po' tutto a queste famigerate case della salute che da noi contotti sono lievitate a 26 in pochissimo tempo l'iniziativa che stiamo prendendo adesso è quella di fare una causa pilota proprio avanti il tribunale proprio per avere il rimborso per un cittadino che superato i tempi di attesa ha dovuto ricorrere al privato sono d'accordo anch'io segnalo la necessità di scambiarci le informazioni in rete per poi aprire più sportelli perché poi dalle liste d'attesa credo si vada necessariamente al tema generale della salvaguardia del servizio sanitario pubblico grazie grazie Rino scusate se avevo dovuto fare un po' il cane alla guardia ma i tempi sono quelli che sono allora io darei la parola a Edoardo per diciamo le riflessioni che sono emerse che riguardano più la questione generale poi eventualmente a Roberto se ci sono dei quesiti a cui non è stata data risposta o se vuole dire comunque qualche cosa rispetto ai prossimi passi Edoardo grazie Marco allora innanzitutto sulla questione generale posta scusatemi non ricordo il nome del partecipante di prima sul tema azienda 83378 allora viviamo un attimo ho proprio fatto una premessa analfabetismo relativo analfabetismo di ritorno non parlo soltanto di coscienza di questioni tecniche normative parlo anche di cultura generale io penso che gli operatori sanitari ma anche gli attivisti potrebbero avere delle lacune nel corso degli anni dal punto di vista di conoscenze non bisogna avere le lauree si tratta di libri che uno legge pratiche che uno fa antropologia sociologia economia allora se il punto di vista che noi assumiamo è quella della critica dell'economia politica e della critica sociale capiamoci su questo va bene non stiamo parlando di rivoluzione stiamo parlando degli strumenti che ci diamo per capire le cose le lenti gli occhiali con cui guardiamo la realtà questo è quello che manca in questo momento allora il tema è molto semplice negli anni 70 quando io mi sono laureato per esempio per quanto riguarda la diagnostica per immagini quella che si dice la radiologia non c'era l'ecografo la risonanza magnetica e la TAC d'accordo per cui c'era soltanto il radiogramma standard le radiografie è ovvio che il problema era molto più semplice altra cosa che non si era prevista che è quello straordinario processo potremmo chiamare una rivoluzione industriale tardiva dopo la seconda guerra mondiale il boom economico ha prodotto un grande cambiamento della società e il più grande cambiamento è che la speranza di vita si è allungata nessuno aveva previsto questa cosa ma quando aumenta la speranza di vita oggi siamo arrivati a 80 per gli uomini a 85 per le donne un anno in più un anno in meno non è questo il tema ma prima non era così negli anni 70 eravamo a 65 70 anni d'accordo e questo non è tanto e soltanto la medicina ma le migliori condizioni di vita il lavoro il reddito la casa l'alimentazione l'attività fisica e naturalmente anche i farmaci la diagnostica e gli ospedali questo non è stato previsto e questo è stato uno degli argomenti che l'allora del Lorenzo siamo tra il 78 e il 92 agli anni 80 Tarcher e Reagan il liberismo sfrenato che inizia in tutto il mondo la Tarcher negli anni 80 comincia piano piano a smantellare il National Service Britannico proprio mentre noi lo stiamo iniziando a costruire e come inizia il nostro servizio nazionale con grande disparità tra nord e sud rendita di posizione di alcune regioni e qui vuole dire senza distinzioni la Emilia Romagna e il Veneto sono due regioni con una storia politica diversa oppure la Toscana e la Lombardia ma che hanno rendita di posizione di maggiore ricchezza il sud dal tempo del risorgimento diciamo così dell'unità d'Italia è un paese più arretrato anche dal punto di vista della struttura sanitaria e questo noi è l'eredità che abbiamo che su cui De Lorenzo si inserisce e anche il tema dell'azienda lasciano perdere il termine il problema è la gestione come ho detto prima il direttore generale normalmente un'azienda privata un consiglio di amministrazione con un presidente risponde al consiglio di amministrazione la scorciatoia di sostituire i comitati di gestione che avevano alcune caratteristiche negative per esempio erano il trampolino di lancio delle carriere politiche alla zona di processione dei politici trombati oggi la stessa cosa per i direttori generali i direttori generali sono nominati dal presidente della regione e non più rispondono ai partiti politici ma alle correnti ai piccoli gruppi alle lobby i centri di interesse a cui fanno a cui fanno intervento e guardate questo ha cascate su tutta la struttura dirigenziale i cosiddetti apicali oggi potremmo dire che c'è un governo scusatemi la parola cerchiamo di capirci è un termine culturale c'è un governo borghese della sanità cioè nel senso le classi dominanti sono possessate di tutti quanti gli svincoli una roba che una volta era stata costruita dai lavoratori e dai cittadini dai persone dai cittadini sociali ma in ambienti per tutela degli stessi prima con le mutue alcune cose non c'erano la spesa sanitaria è impazzita e quindi sono messi una serie di paletti il direttore generale della regione il vincolo di bilancio che ho detto prima ma in realtà la spesa sanitaria tanto per dire che l'azienda non ha risolto niente non è affatto diminuita siamo a 130 miliardi d'anno e come ha detto prima bene Marco noi siamo d'accordo che aumenti ma oggi sull'aumento del fondo sanitario nazionale sono d'accordo tutti anche i datori di lavoro privati sindacati i datori religiosi le regioni i sindacati anche quelli corporativi dei medici perché ognuno vuole la sua fetta della torta noi dobbiamo dire che il fondo sanitario nazionale deve aumentare ma soltanto per il servizio sanitario probabilmente detto per un piano straordinario di assunzioni che devono essere sbloccate allora il PNRR scusatemi qui anche mi attacco al discorso case della salute e case comunità allora le case della salute nascono come un tentativo di riforma della sanità territoriale e nascono segnatamente in Toscana da parte di un compagno un assessore provinciale si chiamava Benigni Bruno Benigni che è morto qualche anno fa bravissimo che dovette trovare una soluzione al fatto che la Toscana è stata la prima regione a fare le aziende sanitarie ancora più grandi di come erano erano provinciali di Marezzo Siena Grosseto e così e le hanno fatto le aree vaste che adesso sono delle grandi aziende allora lui ben conoscendo il tessuto toscano quindi pensando fece un convegno della CGL in cui promosse queste case della salute come un tentativo di rispondere alla rottura di quella prossimità di quella diciamo decentramento amministrativo che la sanità in sé comportava ma dentro un'esperienza toscana quando nel 2005 c'è il secondo governo Prodi con la Turco ministro la Turco propone questa esperienza all'Irano Nazionale non come obbligatoria alcune regioni non le hanno fatte altre le hanno fatte esattamente come ho detto prima in un intervento non ricordo chi che ha cambiato la targa da distretto o ambulatorio con ambulatorio oppure l'ospedale che viene accuso ha scritto casa della salute ma in realtà non siamo riusciti nelle case della salute tranne rarissime esperienze che non sono replicabili nel resto d'Italia a riformare la medicina di base cioè il complesso medico di famiglia pediatra libera scelta specialista muratoriale il rapporto con l'ospedale e con gli altri servizi il dipartimento di salute mentale il dipartimento di prevenzione eccetera eccetera la casa di comunità nasce dopo l'epidemia prima praticamente nel 22 con il DM con il PNRR missione 6 che prevede queste case comunità gli ospedali di comunità e le COT come una riforma tutta calata dall'alto pensata nelle segrete stanze anche me del ministro Speranza però non fare una riunione soltanto su questo ma in realtà noi sappiamo che quella un po' il DM 77 o meglio la missione 6 il PNRR era in quella logica di far riprendere l'economia dallo stallo drammatico in cui si era trovato un po' come il 110 per l'edilizia per capirsi infatti nella missione 6 si parla soltanto di fondi strutturali per costruire le case e ruomità intesi come ristrutturazioni soltanto di proprietà pubbliche acquisto di elettromedicali e di informatica il DM 77 si aggancia per cercare di riformare la medicina di base ma in realtà noi sappiamo che è molto difficile oggi le case comunità sono in strutture vuote come lo erano alcune case della salute o erano dei poliambulatori con la targa cambiata fuori e su questo tra l'altro vi consiglio di andare a vedere io da parte ho scritto un articolo su lavoro e salute se cercate su Google Eduardo Turi lavoro e salute case comunità lo trovate in cui il Parlamento ha fatto uno studio il centro studio del Parlamento sulle case della salute e gli ospedali di prossimità di comunità in cui si vede che questo esperimento non ha così tanto funzionato quindi attenzione alle formulette facili con cui si risolvono problemi che non si sono risolto nell'arco di decenni e che in questo momento è ancora più difficile risolvere l'esperienza del Portogallo è che i medici sono dipendenti i medici sono dipendenti nel Portogallo il Brasile non lo prende in considerazione perché non hanno un servizio di salita pubblica esistono come in tutto il mondo piccole esperienze interessanti ma io penso che sono altre esperienze internazionali che vanno prese come punto di riferimento sul problema dei migranti meglio degli extracomunitari diciamo così irregolari bisogna dire che purtroppo su questo anche di senza fissa dimora c'è un problema della nostra legge nazionale dell'8378 che parla sempre di cittadini e questo è in contrasto con l'articolo 32 della Costituzione che dice individui quindi dobbiamo fare una battaglia per cambiare l'8378 e togliere la parola cittadini come accesso al servizio nazionale sulla proprietà vado brevemente anche su questo allora su questo c'è un tema tecnico scientifico la medicina basata sulle prove di evidenza può andare in una direzione o in un'altra per esempio noi avevamo prima soltanto 5 vaccinazioni obbligatorie il vaiolo l'abbiamo tolto perché l'abbiamo eradicato ma adesso le vaccinazioni obbligatorie sono 10 lasciamo perdere il tema dell'obbligo va bene non voglio parlare di questo aspetto però la scienza diciamo così almeno a questo livello di conoscenza ha fatto aumentare la spesa sanitaria oppure prendiamo un farmaco molto importante salvavita come quello contro l'epatite C che qualche anno fa non esisteva è costosissimo quindi non sempre l'appropriatezza la proprietà può andare in una direzione o in un'altra potrebbe dire che è una cosa inutile ma appunto in alcuni casi fare l'attacca è fondamentale prima l'attacca non esisteva il problema è che la proprietà viene brandita come un'arma per ridurre la spesa e su questo anche qui ricalcando la questione dell'azienda i VRG non hanno risolto il problema perché i VRG sono uno strumento che abbiamo introdotto dal sistema statunitense a tutto assicurativo va bene che serve alle assicurazioni a controllare quanto devono pagare gli erogatori privati noi dei VRG del pubblico non controlliamo niente ma del VRG dei privati cioè degli privati convenzionati controlliamo se va bene il 5% delle cartelle cliniche su cui tra l'altro si può imbrogliare molto molto facilmente finisco soltanto questione dei farmacisti certamente il sottosegretario gemmato pugliese farmacista sta cercando di fare in modo che l'unica struttura veramente ahimè di prossimità che esiste insieme alle scuole sono le farmacie e quindi lui cerca di fare in modo di volgere a suo favore questa cosa della prossimità e delle case della comunità dicendo noi siamo pronti come farmacisti a fare le presentazioni cup e anche erogare alcune prestazioni con lo specialista naturalmente su questo è giusto che vi dico che è una cosa pericolosa che bisogna combattere però vi dico una cosa ancora più precisa su questo allora in Lombardia il movimento diciamo così che c'è contro la sanità lombarda ha proposto una cosa di dire la Lombardia deve mettere sul recup anche tutte quante le prestazioni del privato allora questa cosa è paradossale che nel Lazio l'ha proposta il presidente della regione attuale di centrodestra Rocca perché un movimento di sinistra chiamiamolo così o dal basso in Toscana c'è la stessa cosa che dice Rocca per un motivo oggettivo la quantità di prestazioni quindi non parlo di prestazioni prima Giorgio Ferrari ha usato un'espressione interessante che è la presa in carico non voglio parlare di questa cosa perché è complicato lo ha detto anche la compagna prima quando ha detto lo specialista che non riprenota la visita sulla presa in carico si potrebbe fare una rinassè però in effetti oggi esiste un'offerta smisurata e una domanda altrettanto smisurata in realtà perché esiste anche un consumismo sanitario in una società molto consumista come la nostra certo non siamo qui a parlare di crescita felice o serena secondo la traduzione purtroppo le persone consumano anche inappropriatamente sanità la risposta che in Lombardia si chiede nel Lazio adesso sembrerebbe che Rocca abbiamo ricevuto delle lettere in cui si cerca di fare questa cosa è che però in realtà i privati non vogliono mettere le loro prestazioni sul Recup perché non gli conviene perché preferiscono gestirsi la loro a cui ci sta la parola clientela invece con Recup dovrebbero mettere le loro prestazioni al servizio di tutti naturalmente qui parliamo solo di prestazioni ambulatoriali e non per esempio di interventi operatori o ricoveri di elezioni che sono programmabili in urgenza ecco questi un po' sono i temi che volevo dire l'unica preoccupazione che ho sui di sportelli e poi mi taccio scusatemi e che possano innescare delle logiche cosiddette nimbi dei tipiche del mondo ambientalista not in my backyard nel senso che uno si interessa soltanto della propria cosina locale e perde di vista il problema generale io so che il fenomeno sta molto difendendo lo SPCGL anche in alcune zone aree cattoliche diciamo così più o meno buone attenzione perché cattolici siamo attenti che senza un discorso generale che io ho cercato di fare queste esperienze possono diventare anche un boomerang scusate mi ho dovuto dirlo non voglio criticare nessuno però hai fatto benissimo grazie Edoardo ti staremmo a sentire parlo a plurale perché penso interpretare anche gli altri per delle ore perché è chiarissimo su tutti gli aspetti e anche diciamo sulla complessità della questione sanitaria io darei brevemente la parola a Roberto se c'è qualcosa da dire diciamo ancora di risposta alle cose dette o di riflessione che vuoi fare e poi chiudiamo sì due cose velocissime sul tema ruolo dei sindaci cioè di noi nei confronti dei sindaci e sollecito all'azienda sanitaria in caso di mancata risposta al ricorso su questa seconda risponde Filippo Bianchetti sulla prima rispondo io per come siamo organizzati in Lombardia il sindaco ha ancora qualche piccolo potere all'interno delle assemblee di distretto socio sanitario ebbene quindi che si faccia sentire all'interno di questi ambiti proprio perché dentro lì ha tutta la possibilità di come dire chiedere conto ai direttori generali dell'azienda che ne fanno parte di fare il loro dovere insomma per cui una forma di pressione rispetto alla quale stiamo cercando di capire proprio con quale forma e formula anche dal punto di vista appunto formale portare avanti si può fare e quindi immagino che poi anche su questo ci daremo a livello regionale alcune alcune linee guida generali per quanto riguarda appunto i solleciti che ogni sportello per il momento sta interpretando ce ne siamo resi conto anche dibattendo recentemente su questo in modo abbastanza poco omogeneo mi rivolgo appunto a Filippo proprio perché avendo lui una visuale un po' più ampia di quella locale può dare una risposta più articolata sì riguardo alle domande che sono uscite c'era anche quella del previsto di controllo che poi si ricollega con il concetto di presa in carico che adesso Edoardo voleva evitare e io lo evito però ci tenevo a dire due cose abbiamo avuto dalle domande che sono arrivate uno spaccato di quello che sono i problemi che si incontrano nell'attività di sportello e non abbiamo delle risposte neanche noi lombardi che siamo magari un filino più vecchi dell'argomento non abbiamo delle risposte così sicure mica per niente abbiamo organizzato un gruppo dei problemi che se vi leggessi l'ordine del giorno della prima riunione che è stata recente del gruppo i problemi del coordinamento lombardo vi rendereste conto che le domande sono molte più delle risposte allora cito solo come risposta quella che si sta evidenziando riguardo al primo o al secondo sollecito in caso di mancata risposta o di risposta inadeguata allora nel caso del primo sollecito semplicemente si ricorda il problema e si cerca di farlo con un anticipo sufficiente rispetto alla data di erogazione della prestazione perché se si tratta di una prestazione di una prescrizione per un'indagine strumentale a 60 giorni con la D di differibile è chiaro che non possiamo arrivare troppo sotto a sollecitare per i 60 giorni dobbiamo pensarci con un anticipo sufficiente quindi almeno dico io una decina quindicina di giorni rispetto alla scadenza perché quella non è la scadenza per la risposta ma la scadenza per l'appuntamento cioè per l'esecuzione della prestazione e questo vale anche per le tempistiche diverse come i 30 giorni per le visite della differibile o tutte le prestazioni con la B di breve l'audio urgente è ovvio che è urgente basta durante i giorni non c'è tempo neanche di parlare ma sulla B di breve ci sarebbe parecchio da discutere perché lì è una questione molto importante di responsabilità ecco quindi il primo sollecito è un richiamo semplice semplice guarda che ti ho detto che devi fare questa cosa entro questo termine guarda che il termine si avvicina per favore cerca di ricordartelo se non risponde ancora a questo punto entro un tempo molto breve il direttore generale a questo punto il sollecito deve contenere una ipotesi di reato che noi potremmo non mancare di sottoporre alla magistratura perché a quel punto si configura l'abbandono di pubblico servizio o come si chiama quindi lì bisogna dirglielo guarda che stai sconfinando sul terreno molto rischioso per te ecco dico solo questo dico ancora una cosa che mi sembra che non sia stata detta proprio bene la dico ancora una delle cose a cui si mira e che si osserva accadere è il recupero dell'idea stessa di avere dei diritti esigibili le persone non si rivolgono nemmeno più al CUP il 50% ho sentito dire non so che base abbia questo riscontro ho sentito dire che il 50% delle persone con in mano una prescrizione del proprio medico non si rivolge più nemmeno al CUP si rivolge direttamente al privato chi può evidentemente perché quelli che non lo possono fare rimangono fuori e la rinuncia a curarsi è un risvolto drammatico che ha delle conseguenze dirette su anni di vita persi su sofferenze delle persone in carne e ossa quindi il tema è gigantesco molto molto importante ma tutti lo sentiamo lo capiamo quindi vi direi di aver fiducia noi che stiamo cercando di mettere insieme qualche risposta vedremo di metterle in comune perché è evidente che se si trovano delle modalità che si possono proporre a tutti fa un gran comodo se qualcuno ti fa trovare il lavoro già un po' fatto cercheremo di farlo come gruppetto Lombardo ciao bene grazie a tutte e tutti diciamo che il tema sia fondamentale lo dice anche solo un dato che siamo ancora in 71 dopo due ore e mezza vuol dire che ovviamente lo spazio serviva a tutte probabilmente ne serve altro purtroppo diciamo oggi abbiamo lanciato questa cosa vediamo da cosa nasce cosa vediamo che cosa viene messo in campo e niente grazie innanzitutto Edoardo Turi per la il quadro che ci ha fatto grazie a Roberto i nomi i nomi Giuliana e Filippo Giuliana e Filippo che ci hanno raccontato l'esperienza di Saronno ma ci hanno fatto capire che non è un'esperienza che c'è solo lì è in tanti posti e soprattutto è replicabile ovviamente con tutte le specificità di ogni territorio di ogni regione e niente io direi che possiamo chiudere qui buona serata a tutti e a risentirci a presto ovviamente la trasmissione è registrata nei prossimi giorni manderemo in giro il link una volta che abbiamo che verrà pubblicata e quindi che tutti potranno o rivederla oppure diffonderla perché altri e altre possano vederla buona serata a tutte e tutti buona serata a tutti grazie buona serata grazie grazie grazie